La situazione che si trascina da diversi giorni e che ha visto temperature molto elevate e che ci stanno portando ad un ottobre 2014, tra i più caldi di sempre, volge al termine. In Calza, dal mare del nord, una depressione. È nata sulle ceneri dell'uragano Gonzalo, il quale però è già passato a normalissima depressione atlantica per cui non arriva nessun uragano Gonzalo, nemmeno i resti di un uragano Gonzalo, arriva una normalissima depressione. Qui avremo un passaggio perturbato molto rapido che potrà portare, nella mattinata di domani, qualche pioggia, qualche rovescio sui rilievi, ma direi soprattutto sul settore orientale e quindi anche la fascia costiera, compreso i riminesi. Si tratterà di fenomeni piuttosto deboli. Questa perturbazione avrà come caratteristiche principali il vento. Prevaranno venti nord-occidentali piuttosto vivaci. Sulla costa invece avremo anche una componente da nord-est, una componente di bora, e quindi il mare diventerà molto mosso o agitato nella mattinata di domani. Qualche raffiche ce le aspettiamo lungo la costa. Già da domani sera il tempo sarà migliorato, ma probabilmente lo farà già domani pomeriggio. E poi torna un nuovo aumento della pressione, però non avrà più caratteristiche, dico, tardo-estive. Grazie. Grazie. Grazie.